Allora, io voglio dire che il caricato di questa canzone è felice, perché io... Cioè, perché è un po' per me, come Dio, che mi finisce... Sono un po' di trattito nell'anima, non ho capito che ora è, non mi guardo, ma voglio parlare, perché? Ma di te, che tu ti ammantelo che un diavolo, ho tre domande per te, chi prende l'interno e rimarci e poi lì, soprattutto, vedete, vedete, dovrà essere un motivo, no? Per te, questa è la vita, la capisce che è più pratico, hai un momento, Dio, non mi guardo, ma ci sarei anch'io, hai un momento, Dio, o te lo dici e te ne hai un passivo per me, che cosa c'è, ma cosa c'è questo? C'è il rispetto, c'è il rispetto... Basta, basta! Venga felice!